Corsellino insomma, riparto da te a questo punto, che sofferenza alla fine Sì, sofferenza perché se non chiudi la partita poi una punizione, un rimpallo può sempre andarti di traverso però la partita è più che meritata, anzi l'1-0 sta strettissimo a quest'Inter che avrebbe potuto vincere 3-3 con 4 gol di scarto il problema è sempre quello, l'Inter crea una quantità di occasioni incredibili ma poi il risultato è quello che vediamo, 1-0 dopo una mole di gioco prodotta veramente industriale poi la solita storia Enzo, di questa mole di gioco dell'Inter poi cosa manca, l'individualità, che ne di casacchi diciamo che l'Inter questa sera ha fatto una partita molto molto generosa chiaramente il risultato è assolutamente bugiardo perché con tutte le occasioni che hanno avuto veramente poteva fare 4-5 gol però c'è anche da dire che quando una squadra sbaglia tanto è evidentemente qualcosa che non quadra perché mi sta bene che le occasioni tu le crei però se le crei le sbagli in questa maniera qui a catena vuol dire che qualcosa non quadra probabilmente forse la vittoria di Salerno è arrivata in quella maniera nel secondo tempo e così ha spostato anche un po' gli equilibri sembrava che anche stasera potesse finire alla stessa maniera invece Lautaro Martinez che ha fatto 4 gol con la Serenità la stasera ha sbagliato l'impossibile si è mangiato 3-4 gol che neanche un giocatore con tutto rispetto di promozione avrebbe sbagliato parliamo dei singoli la squadra ti è piaciuta perché tanti temi da affrontare naturalmente poi parliamo di Lautaro la squadra ha giocato alla Rembaggio è stata molto generosa ha corso tanto, ha speso tanto, ha creato tanto, ha sbagliato tanto ed è riuscita a vincere con un gol di scarto quindi alla fine è andato tutto bene ma questo deve servire di esperienza perché contro questo Benfica è sufficiente vincere in questa maniera anche con un gol striminzito contro avversari più forti la generosità alla fine si può ritorcere contro perché poi qualcosa ha concesso anche al Benfica e con avversari più forti avresti pagato però quello che contava stasera era la vittoria perché altrimenti la classifica sarebbe stata sicuramente negativa quindi complimenti all'Inter che è riuscita nonostante gli errori a vincerla è a più 4 dall'Europa l'Inter cioè nel senso dall'eliminazione dell'Europa poi è chiaro che tra terzo e quarto posto meglio forse per vincere il campionato arrivare quarti che terzi poi c'è una questione economica invece che ti dice magari di andare avanti in Europa League comunque al momento credo meritatamente Real Sociedad e Inter stanno dominando diciamo così questo girone con 4 punti forse sono le due squadre da battere Sì, sarebbe stato meglio però che ci fosse il Benfica insieme all'Inter per un abbracetto perché è chiaro e evidente che probabilmente il Real Sociedad è il terzo incomodo anche se in questo momento è primo in classifica con i Nerazzurri perché come valori probabilmente il Benfica forse ha qualcosa di più per il Real Sociedad e quindi potrebbe esserci nelle prossime non so, alla terza o alla quarta partita che vedremo un equilibrio di classifica Diciamo che è più in chiave qualificazione che sia primo o secondo è più facile per il Napoli passare il turno con Braga e Union Bellino in chiave qualificazione cioè ti basta il secondo posto quindi il Napoli naturalmente se la devi giocare adesso con Braga e Union Bellino il Real Madrid rischia di chiuderlo prima questo girono anche se però il Napoli attenzione ha perso contro il Real Madrid brutto ma forte esteticamente privo totalmente di qualsiasi idea di gioco però il Real Madrid ha una grande cosa che ha messo a disposizione l'umiltà ha giocato contro come una provinciale giocando da provinciale avendo però nelle proprie file dei campioni che in qualsiasi momento te la possono vincere quindi direi viri giusto su tutti da una parte molto negativo perché il Real potrebbe giocare meglio dall'altra l'atteggiamento mentale e questo deve far temere il Real Madrid a tutti giocano assolutamente come se fossero l'ultima del girole assolutamente con la qualità di quelli forti di nuovo in diretta allora parliamo di Inter lo facciamo con qualche messaggio poi partire in cifra e paginele e tutto il resto certo che sì che bello vederli rodersi milanisti e gli juventini una goduria se potete salutatemi Sacchi ci scrivono noi ti salutiamo Sacchi ma io non sto devo giocare domani io ho problemi per domani ecco problemi in generale dai dai per sabato che problemi ho e poi ancora poca cosa il Benfica avevo detto che l'Inter vinceva facile ma le gran parate del portiere e i pali sono colpa di Martinez quindi qui si sta comunque esaltando il portiere del Benfica i gol che ha sbagliato Martinez sono colpa di Martinez poi c'è tanto merito del portiere ma un grande centravanti avrebbe segnato quei gol il problema è il signor Inzaghi i giocatori sprecano perché l'allenatore non dà la giusta mentalità sì perché gli dice quando si mette al pallone sparate all'alta fate 4 gol solo con la Salernitana queste sono state le indicazioni di Inzaghi ma alla fine non c'era mezzo rigore per il Benfica no lei va al mezzo c'erano 200 rigori ce n'era uno intero nel primo tempo non mezzo però e poi ancora ciao Sacchi vediamo cosa dice domani noi siamo l'Inter Vincenzo è interista da 60 anni mi dispiace ecco sempre a criticare ma forza Inter e poi ciao quest'anno facciamo il triplete sicuro ho anche scommesso 100 euro e 2024 vacanza gratis bene sono contento che butti via così vacanza gratis al piano speriamo ci porti con lui e poi Dunfries è un emerita pip ufficialmente acclarato sono stati sbagliati molti passaggi decisivi ma criticare Lautaro in questa partita è un po' troppo vediamo intanto la partita in cifre poi non so se sono arrivate le pagelle 21 tiri 7 in porta qui di solito si diceva che non si beccava la porta qui la porta l'ha beccata è vero che Trubbine ha fatto i miracoli però la porta deve spaccare insomma dai questi numeri non sono positivi per l'Inter perché con questi numeri l'Inter ha perso uno scudetto un anno poco più di un anno fa cioè quando si purtroppo si registra che mentalmente una squadra arriva là e sbaglia dei gol incredibili chiaro non è sempre così poi ci sono delle partite dove ne fai 3, 4, 5 ma in certe gare ne sbagli di incredibili alla lunga a livello psicologico è pericoloso perché uno dice beh sì io so già che avrò 7, 8 occasioni che poi le sbaglio clamorosamente e quindi ti viene quella paura quell'ansia di non poter segnare per vincere la gara magari una gara importante cioè se è successo una partita o due è un conto se succede 3, 4, 5 volte e siamo ai primi di ottobre può essere un problema ripeto l'Inter ha perso lo scudetto per questo motivo o no sì ma infatti è la lamentela che muovo ai miei giocatori e all'allenatore in questo momento un saluto non puoi perché non è la prima volta non puoi creare tutte queste occasioni da gol oggi se ne sono avute 6, 7 clamorose cioè non il tiro è andato fuori di poco 6, 7 occasioni a tu per tu davanti al portiere prendi il palo prendi la traversa e il portiere poi fa i miracoli però Enzo un saluto a Toto molto presto farò nuovamente un giro in Honduras e saluto tutti ma va allora sai che il portoghese lo parli da Dio Enzo Gambaros va bene non so se abbiamo le pagelle pure volete aggiungere qualcosa sull'Inter voi mischi lasciando perdere io la vedo positiva perché creare 21 palle gol cioè 21 tiri in porta è una cosa importante e dimostra che c'è tutto un gioco e tutto poi che non si non li concretizzi rischi poi alla fine con una punizione calcio d'angolo però ragazzi ti buttare a ordinare una partita siete bravi siete forti giocate bene però non avete davanti né Van Basten né Platinina cosa perciò è anche normale che questi giocatori gli sbagliano i gol secondo me e sopravvalutare anche i giocatori che uno ha però 7 tiri in porta 21 tiri tu fai un gol però tu per quanto non siano Van Basten Maradona Matteus Zico e compagnia bella è comunque un bottino troppo misero allora non è una non è una provocazione sono sono due provocazioni no 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 sono serio questo è l'anno dell'Inter perché ogni volta che c'è un episodio gli gira sempre buona e anche oggi io credo che 10 squadre su 10 dopo che sbagli tutti quei gol lì è una classica partita che becca un contropiede e pareggio lo perdi e invece l'Inter devo dire che quest'anno li gira bene l'episodio dubbio non viene fischiato mi viene in mente Empoli Empoli-Inter rigore sulle mani provocati da Bastoni contropiede gol bellissimo ma sempre dopo un calcio di rigore non concesso solo tu e quattro altri di la vista parlano di domenica anche lì fa parte sempre che vuol dire che è l'anno buono perché domenica c'è possibile espulsione niente o stasera calcio di rigore niente e ragazzi è l'anno buono stai mistificando la realtà fai passare per episodi dubbi episodi che sono chiari sono chiari i rigori non sono quelli che vorresti far hai ragione tu ma adesso c'è il solito refrain sull'Inter che se vince bisogna trovare per forza l'episodio per dire che non avrebbe meritato di vincere ma di cosa stai dicendo va bene va bene stiamo entrando non è possibile va bene stiamo entrando in un circolo allucinante vediamo le pagelle per favore va bene 7 a Tioram migliore in campo questi sono i pagelli di Borsellino tanti 6 e mezzo Lautaro 5 e mezzo insomma Gambaro no il migliore in campo è stato Cialanoglu Tioram gli si dà 7 per il gol perché se non l'avesse segnato sarebbe stato da 5 e mezzo no non gli avrei dato 5 perché comunque si è proposta ha corso tanto la buona volontà ce l'ha messa ma ha sbagliato tanto quindi Cialanoglu è stato il migliore in campo anche nella fase di recupero ha fatto 2-3 recuperi veramente da giocatore dove devo dire è migliorato molto a me non piace particolarmente per il resto Bastoni si merita un bel 4 e mezzo il peggiore in assoluto insieme a Danfris e Lautaro vabbè Lautaro di dai 4 Lautaro ha fatto comunque l'assist per il gol 4 e mezzo Lautaro l'ho detto prima 4 gol segnati a Salerno 4 in pagella stasera quindi il 4 di Lautaro era già scontato allora vediamo il calendario fino a novembre un attimino per capire anche quello che può succedere all'Inter da qui fino alla sosta con gli incroci tra il campionato e il Champions League naturalmente appena possibile la vediamo grazie mille perché l'Inter come detto è il Benfica poi Bologna Torino il Salisburgo Roma Atalanta Salisburgo e Frosinone quindi l'Inter adesso deve fare 6 punti assolutamente fino a novembre fino a novembre naturalmente è la possibilità di archiviare anche la Champions e iniziare a pensare solo al campionato mentre il Napoli di cui parleremo tra poco Real Madrid Union Berlino Union Berlino adesso anche per il Real Madrid cioè per Inter e Napoli il mese di ottobre sarà decisivo per raccogliere punti importanti del campionato ma soprattutto ammazzare la Champions giocando la doppia sfida di Champions col Salisburgo quindi è prevedibile che porti a casa 6 punti perché se così non fosse sarebbe un problema 6 punti più quelli che ha credo che al 99% discorso qualificazione poi primo secondo posto lo vedremo quindi io credo che alla seconda partita giocata contro Salisburgo l'Inter deve aver chiuso già al discorso qualificazione ottavi cosa diversa per il Napoli perché comunque sia avendo perso oggi malamente dico perché oggi era una partita alla portata Real non mi è piaciuto però è il reale più forte ha perso una grande occasione purtroppo il Napoli essendo in un girone in un girone passabile si è un po' complicato la vita bene direi di fermarci bravo